Parliamo di Shazam, La Furia degli Dèi o Fury of the Gods in originale. Il mio percorso di attesa per questo film è cambiato molte volte con il tempo, dal momento in cui è stato annunciato tanto tempo fa ad oggi che l'ho visto. È iniziato con comunque un discreto hype, perché il primo film mi era piaciuto, l'ho visto all'uscita nel 2019, mi era piaciuto, lo trovavo anche il migliore del The Sixth Ended Universe, del fu The Sixth Ended Universe, fino a quando è uscito poi The Sixth Ended Squad, perché quello oggettivamente, e non potete dire altro, è il miglior film del The Sixth Ended Universe, però appunto il primo Shazam mi era piaciuto molto, e quindi questo sequel lo attendevo. Secondo me il primo Shazam è anche un film non sottovalutato, perché chi l'ha visto comunque lo ha apprezzato, ma visto veramente molto molto poco. Le aspettative però si sono abbassate nel luglio dell'anno scorso, quando al San Diego Comic Con la DC ha voluto presentare un'unica cosa, ovvero, o comunque pochissime cose, tra cui il primo teaser trailer di Shazam 2, di Shazam La Furia degli Dèi, e quel trailer mi aveva nettamente ribaltato le aspettative, in negativo. Così quindi le ho abbassate tantissimo, fino ai diversi altri trailer, anche se qualche scenetta così, qualche piccola scena degli ultimi trailer, mi aveva drizzato un po' le orecchie, le aspettative erano basse fino ad oggi che ho visto il film. E questa cosa mi ha dato la possibilità di farmi piacere davvero tanto questo Shazam Fury of the Gods. Prima di iniziare però con la recensione, come sempre vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link dei miei social, tra Instagram, TikTok, Twitter e Letterboxd, dove ho pubblicato una mini recensione di Shazam Fury of the Gods, appena uscito dalla sala, e in descrizione come sempre ci sono anche i link di Pumpling e del Fantasia Store, con rispettivi codici, il Pensiero 4 su Pumpling per avere un paio di calze gratis a scelta, e Andry 5 sul Fantasia Store per avere il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito. Codici illimitati li potete usare all'infinito e vi ringrazio in anticipo se li userete. Adesso però parliamo del film, perché ripeto appunto, mi è piaciuto, e neanche poco in realtà, e mi dispiacerebbe non rivedere Shazam all'interno del nuovo DCU di James Gunn e Peter Safran. Anche se ci sono alcune riserve che vorrei dire, esporre in questo video, perché sia nella parte spoiler che nella parte no spoiler, perché questa recensione si dividerà così, ci sono delle cose che fanno ben sperare, almeno per quanto mi riguarda, sia da una parte che dall'altra, ne parleremo fra poco. Alla fine è un film che ricalca più o meno lo stesso stile del primo, anche se quella era l'origin story del personaggio, quindi sì, è rappresentato in modo diverso. Qui è già Shazam, sono già la Shazam Family da due anni, viene detto che sono passati solo due anni dal primo film. Nonostante siano due film abbastanza diversi per ciò che presentano, ricalca più o meno lo stile. Un film molto più comico, comedi, in confronto agli altri Dark del DCX e Dead Universe che c'era un tempo. Sì, si presenta come un film più giocoso, più allegro, tra virgolette, ma allo stesso tempo ti presenta anche dei momenti molto strani, ambigui e molto violenti. Sì, non si vede così tanto sangue, ma il concetto di ciò che accade, fin dall'inizio in realtà, è violentissimo. Ed è una cosa che dimentico spesso nei film, a questo punto nei due film di Shazam, perché anche nel primo film c'erano scene così tanto violente e inaspettate, che con i diversi rewatch dimenticavo sempre. Per esempio quando, se non sbaglio, uno dei sette peccati capitali taglia la testa praticamente tutte le persone che erano sedute a un tavolo. Ecco, quella scena io, dopo diversi rewatch, comunque l'avevo dimenticata. E mi stupivo effettivamente ogni volta. E non è che quella scena me la sono ricordata così anche prima di vedere Shazam 2. No, ho visto la violenza inaspettata per me in questo film e poi mi sono ricordato che anche nel primo film c'era questa violenza così... non decontestualizzata perché ha senso, non è roba buttata a caso. Ma sono più o meno le due facce della medaglia. Il film si chiama La furia degli dei, ma in realtà le villain sono appunto delle dè. So che magari il titolo sarebbe sembrato un po' strano dicendo dè, la furia delle dè. Però sì, alla fine sono semplicemente Ellen Mirren e Lucy Liu le cattive del film. Ho visto il film doppiato quindi non parlo delle interpretazioni. Posso dirvi che l'interpretazione di Maurizio Merluzzo è sempre ottima sul personaggio di Zachary Levi. E in generale nel doppiaggio non ci sono stati problemi. Forse non hanno preso talent o comunque hanno preso doppiatori che sanno fare il loro lavoro. Quindi a posto. L'unica cosa che posso dire delle interpretazioni è questa. C'è un piccolo grande problema che ho riscontrato durante la visione del film ed è il fatto che forse manca una parte centrale. Perché ci buttano subito, fin dall'inizio, nell'azione, nel momento... Ci spiegano, tra virgolette, quello che deve succedere. Deve succedere e poi si passa, almeno a me è sembrato così, direttamente alla battaglia finale o comunque nelle scene finali, nella grandissima battaglia finale se contiamo tutto quel che succede. Perché succedono diverse cose in diversi posti ma comunque lo reputo tutto un'unica battaglia finale. Un po' come all'Avengers Endgame. Non è ovviamente la stessa cosa però avete capito, spero, il riferimento. Quindi succedono diverse cose in diversi posti ma è comunque la stessa battaglia. Nonostante duri due ore e dieci minuti posso dirvi che mi sono volate, forse per il fatto che appunto manca una parte centrale. Anche se in un certo momento, non ricordo adesso quando, ho sbadigliato un po' di volte. Non è noioso però il film, però mi è capitato di sbadigliare veramente pochissime volte ma è capitato. Il film comunque, ripeto, è comico, ricalcando un po' il primo Shazam. E non è la comicità però di Black Adam del fatto, oh sono un elettricista, ripetuto 6.000 volte in 6 contesti uguali. Quindi non è assolutamente quel tipo di comicità. Con me questo tipo di comicità ha funzionato sia durante il primo film che con questo secondo. Vi dico solamente la scena lettera e io ho riso tantissimo. È una cavolata come poche quella cosa ma ho riso tantissimo. E ci sono comunque altre chicche, altre scene divertenti che non mi hanno solo fatto sorridere. Ho proprio riso, è una cosa che non mi succede spesso, soprattutto con un film di sì. O meglio, ridere di gusto di una cosa che è nata per far ridere. Perché sì, con Black Adam ho riso in alcune parti ma non erano assolutamente nate per far ridere. Il film in generale è disseminato di citazioni pop, non solo di sì, non solo all'interno dell'universo, Batman. Vengono citati praticamente tutti i membri della Justice League. Ma è pieno anche di riferimenti ad altre robe della cultura pop, persino gli horror. All'inizio, non è spoiler ragazzi, ve lo posso dire tranquillamente, a inizio film proprio c'è Annabelle. E c'è un personaggio inutile in realtà all'interno della storia. E compare solamente all'inizio e lì sta, non ha nessuna utilità. Che si chiama in un certo modo, con due nomi di due registi italiani, tra l'altro, registi horror messi assieme. Si chiama Dario Bava. Io ho pensato che sì, Dario Bava Junior tra l'altro, quindi ho pensato fosse un riferimento così a Dario Argento e a Mario Bava. E poi nel film ci sono tante altre cose del genere. Le scene d'azione sono comunque poche, tutto sommato, lunghe sì, ma sono due o tre in tutta la durata del film. Sono realizzate bene, mi sono piaciute. La CGI a volte è fatta molto bene, in realtà molto credibile, a volte invece molto molto male. Soprattutto il drago. Sappiamo che nel film compare un drago, non dirò altro su questo personaggio, ma sappiamo anche dal trailer appunto che ci sarà un drago. Ecco, lui è fatto a volte bene, molto bene, a volte molto molto male. Sembra appiccicato sullo schermo che si muove dietro i personaggi e sembra davvero un layer, non qualcosa di tridimensionale. Però nella maggior parte dei casi la CGI è forse una delle migliori del DC Extended Universe o comunque quel che è. Adesso non so se questo film farà parte del DCU, se è fuori, se è un Elseworld o qualcosa del genere, non lo so. Fatto sta che sì, lo identifico come una via di mezzo. Continuando a sperare che si porteranno Shazam più in là con la storia. Dipenderà ovviamente tutto dal guadagno di questo film. C'è chi dice, insider abbastanza importanti e credibili, dicono che tutti gli attori passati del DC Extended Universe, quindi appunto Zachary Levi, Ezra Miller, Gal Gadot, Ben Affleck, no Ben Affleck no in realtà, però Jason Momoa. Ecco, tutti questi attori sono già stati licenziati da James Gunn e Peter Safran in attesa dello scoprire se i loro film o comunque i loro prodotti faranno qualcosa in più, se questi personaggi sono davvero amati, così da inserirli nel nuovo DCU. Adesso bisogna credere a questi leak, questi insider. Fatto sta che però mi dispiacerebbe non rivedere Shazam, perché tutto sommato anche con questo secondo film il personaggio mi piace. C'è una cosa che viene spoilerata nel trailer, è una cosa che comunque si viene a scoprire subito all'interno del film, ma era comunque un colpo di scena, almeno da come è presentato è un colpo di scena a tutti gli effetti, e averla già, saperla già dal trailer, mi ha dato un po' fastidio, non tantissimo, perché è una cosa comunque irrilevante, dato che viene, si scopre subito, ma è comunque uno spoiler. Nonostante ci sia già la Shazam Family al primo film in realtà, perché sono comparsi lì per la prima volta, Shazam Family che qui viene chiamata Shazamilia, una sola volta fortunatamente, nonostante ci siano già tutti i membri della famiglia Shazammati, sono riusciti a dare uno spazio ben preciso a Billy Batson, solamente a lui. Gli altri sì, sono importanti, sono importanti più come ragazzini che come Shazam, ed è questo a renderli più secondari, cosa che comunque dovrebbe essere, perché il protagonista assoluto è lo Shazam di Billy Batson. Nonostante l'attore di Billy Batson, il ragazzo compaia veramente pochissimo. Per la maggior parte del film compare solamente Zachary Levi, però ho apprezzato come il fatto che una singola scena di poco conto, almeno sembrava avere poco conto nel primo film, sia stata il punto cardine di questo secondo. Inizia tutto da quella scena, che era comunque una cosa irrilevante all'inizio, almeno per me. Ottimo collegamento, penso fosse comunque pensato fin dall'inizio, non credo sia una retcon all'ultimo minuto, all'ultimo minuto ovviamente capitemi. Non so se in questo film sono stati fatti dei cambiamenti per introdurre o no Shazam all'interno del DCU. A me sembrerebbe che qualcosina è stata cambiata in corsa. Non male, non è stata cambiata male, ma qualcosina sembrerebbe cambiata. Soprattutto nelle post-credit, sono due le post-credit, nella mid-credit quella mi sembra un po' modificata. Per dare o no una chiusura al personaggio, non vi dirò altro. In ogni caso le post-credit mi sono piaciute, soprattutto la prima, la mid-credit. Ho parlato delle post-credit senza parlare nemmeno del finale. Il finale mi è piaciuto tantissimo. Solo questo, in realtà. Inaspettato, molto inaspettato per diversi motivi. Coraggioso sotto certi punti di vista, meno coraggioso sotto altri. Presenze, non presenze, idee che erano comunque prevedibili, ma arrivato a un certo punto, soprattutto dopo una scena a metà del film, non mi sarei aspettato una certa cosa. Almeno credo fosse a metà del film e non all'inizio, perché appunto la metà del film non l'ho sentito, ho sentito solo l'inizio e la fine fusi. Ma ragazzi, se ancora non avete visto Shazam! La Furia degli Dei, uscite da questo video perché gli spoiler inizieranno fra poco. Io vi invito ad andare a vedere il film, anche perché voglio Shazam! all'interno del DCU e sicuramente non lo inseriranno nell'universo se questo film sarà un flop, cosa che sfortunatamente è prevedibile. Però noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa, andate a vedere Shazam! La Furia degli Dei. E in generale, se vi piace, parlatene bene sui social. Ovviamente non è un film perfetto, il fatto che manchino le... che almeno ci sia l'impressione che manchi la parte centrale è un grandissimo problema, ma in generale mi è piaciuto. Ci sono degli slow motion messi un po' a caso, in pieno stile DCU, alla Black Adam o alla Snyder in generale. Tra l'altro Snyder se n'è uscito adesso con un mini teaser strano con la voce di Darkseid. Non lo so, non voglio mettermi dietro anche questa cosa. Basta. Ripeto, il film non è perfetto, quindi non... non è esente da difetti, ma a me è piaciuto molto. Sarà che appunto avevo le aspettative davvero basse. Ma adesso davvero, se non avete visto il film, vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati a questo punto del video, perché gli spoiler inizieranno tra 3, 2, 1. Come primissima cosa vorrei parlarvi dello spoiler buttato nel trailer, anche se comunque è un colpo di scena che viene rivelato relativamente all'inizio del film, ovvero il fatto che il personaggio interpretato da Rachel Ziegler, che tra l'altro bellissima, io non vedo l'ora di vederla anche in altri film, sarà la biancaneve, la famosa biancaneve nera, che sta sconcertando così tanto le persone. Ecco appunto il fatto che il suo personaggio, che adesso non ricordo bene il nome... il nome completo, comunque Anne, è la terza sorella figlia di Atlante, quindi la cattiva, un'altra cattiva, che in realtà non è cattiva, perché poi per tutta la durata del film aiuta i protagonisti, non è realmente cattiva. Per tutto il tempo va contro le sorelle, neanche velatamente, tranquillamente, così, va contro, basta. Parlando invece di altri riferimenti interessanti, o comunque altre citazioni, altri easter egg, ho notato che nel film intanto, a parte comunque Dario Bava, Annabelle, all'interno dello studio del pediatra, quella scena mi ha divertito, devo ammetterlo, il fatto che lui prenda questo pediatra come uno psicologo, perché è un ragazzino, è un ragazzo, in realtà ha 18 anni, non è che sarei così stupido, ho 18 anni, ma io non... forse un po' esagerato effettivamente, un altro problemino è che forse la caratterizzazione da stupidotto di Billy Butcher, cioè Billy Butcher, Billy... Billy Batson, scusate, è forse troppo esagerata, ma possiamo magari giustificarlo con il fatto che non ha avuto un'educazione reale, per molto tempo non ha avuto genitori. Dicevo, a parte questi riferimenti al mondo horror, compare il regista, almeno mi è sembrato il regista verso il finale, quando nascono quei mostri schifosi da quelle uova, c'è il regista che viene portato in volo in stile Jurassic World, con un mostro che lo prende in stile terrodattilo. Ecco, appunto, le morti sono qualcosa di molto, molto violento, concettualmente, non ci sono splatter, gore, robe strane, ma concettualmente sono molto violenti. Questo si va... anche il regista Sandberg si va spiaccicando a terra. Un altro che si spiaccica a terra, non ho capito bene, se è professore, maestro, psicologo, bidello, qualcosa comunque della scuola, che è incantato da Lucy Liu. Chi non sarebbe incantato da Lucy Liu? Comunque, è incantato da questa dea. Si butta in pratica dal palazzetto della scuola e il rumore di arrivo si sente. Poi all'inizio un tipo si va spaccando la testa, letteralmente, sul marmo. Il marmo si rompe, quindi non penso sia sopravvissuto. Ci sono comunque molte scene molto, molto, molto violente che non mi sarei aspettato appunto perché mi sono dimenticato che anche nel primo film c'era questo tipo di scene. Di sangue non se ne vede tantissimo, però comunque siamo lì, con l'idea è quella. Poi Shazam viene chiamato anche Captain Marvel, che era il vero nome di Shazam prima che si chiamasse in questo modo. Nei fumetti lui era Captain Marvel, poi è andato alla Marvel come nome, ma è un altro personaggio. E io in realtà ho beccato solo altri pochi riferimenti, ma ve li lascio comunque cercare nel film, anche tra le frasi dei personaggi o qualcosa sullo sfondo. Ci sono alcune cose che non vengono spiegate benissimo oppure che non... che sono presentate in modo troppo veloce. Per esempio, non spiegato benissimo come a un certo punto Freddy, dopo aver perso i poteri, li riprenda. Muovendo la stampella lui si ritrasforma in Shazam, dicendo appunto la formula magica Shazam. Riprende i poteri così. Non ho capito, magari è un problema mio, ma non ho capito come abbia fatto a prendere i poteri e perché non l'abbia fatto poi successivamente. Mentre le cose che succedono molto velocemente assieme riguardano il personaggio di Lucy Liu che si rivela l'unica vera cattiva del film perché vuole piantare il seme, anzi riesce a piantare il seme utile per il mondo degli dèi, però lo vuole piantare sulla terra per portare distruzione. Ci riesce per poco, poi appunto viene sconfitta. Lucy Liu in poco tempo fa uccidere dal drago la sorella maggiore in teoria interpretata da Helen Mirren poi si viene resuscitata dalle mani fulminanti di Shazam ma anche questa è un po' una cosa... E subito dopo aver spiedinato la sorella trasforma Rachel Ziegler in umana. E ovviamente sono cose per facilitare il finale del film. Il fatto che la cupola viene ridotta solo allo stadio, il fatto che appunto anche Rachel Ziegler e Ren non ha più i poteri e quindi c'è la scena di Freddy che fa l'eroe da ragazzo e comunque sono cose messe apposta lì che non mi hanno convinto al 100%. Comunque la grande battaglia finale che non arriva ovviamente ad Avengers Endgame come ho detto prima tra unicorni da una parte che uccidono mostri gli unicorni li ho apprezzati in questo modo perché vederli magari bianchi con la criniera arcobaleno color marshmallow non lo avrei apprezzato e la battaglia Drago Lucy Liu contro Shazam molto molto bella anche come si va concludendo quindi con la morte effettiva di Billy Batson Billy muore a fine film ed è questo effettivamente il finale che non mi sarei aspettato avrei visto sicuramente la scena di lui che apre gli occhi all'ultimo minuto con tutti attorno invece no muore e lì la vedevo effettivamente come una scelta molto molto coraggiosa poi sul finale comunque si ritrovano tutti nel mondo degli dèi e il mago lo stregone dice che non esistono più dèi attorno alla alla bar alla tomba di Billy e compare con tanto di sinfonia di soundtrack Wonder Woman e io in questo momento sembro dirlo un po' così strano ma posso ammettere tranquillamente che per quella scena mi sono esaltato e a me Wonder Woman la Wonder Woman di Gal Gadot non è che piaccia così tanto soprattutto dopo 1984 ma non so per quale motivo con quella scena mi sono esaltato forse perché comunque si sapeva che Wonder Woman sarebbe comparsa nel film ma a metà o comunque all'inizio come ho detto prima c'è una scena un po' strana di Billy che sogna di avere un appuntamento da Shazam sogna di avere un appuntamento proprio con Wonder Woman e per tutta la durata della scena in faccia a Gal Gadot non si vede quindi io ho pensato vabbè stanno facendo allora semplicemente la stessa cosa che è successa con Superman il Superman di Henry Cavill a fine del primo film quindi non lo fanno vedere in faccia ma il personaggio effettivamente c'è quindi pensavo fosse quella la scena con Wonder Woman che si rumoreggiava anche se c'era la possibilità che fosse stata tagliata totalmente dalla pellicola quindi non mi sarei aspettato quel finale con lei che si presenta e aggiusta tutto fa rinascere stile zombie Billy trasformato sì un po' strana come roba forse un po' troppo esagerata farlo rinascere così ma effettivamente il corpo era lì non poteva spuntare stile Captain America lontano questa è una scelta un po' meno coraggiosa sarebbe stato curioso vederlo semplicemente morire già nel secondo film quindi non avere per un motivo Shazam all'interno del DCU ma forse da una parte è meglio così perché il personaggio ripeto mi piace molto quindi spero di rivederlo interessante il fatto che abbiano rivelato ai genitori il tutto le scene che si vanno a creare mi hanno anche divertito e le scene post credit invece per quanto mi riguarda sono carine soprattutto la prima con John e Emilia da Peacemaker e The Society Squad che mandati dalla Waller vogliono assoldare appunto Shazam per la justice puntini puntini society e questa cosa mi ha mi ha fatto molto ridere perché Shazam Billy accetta subito sentendo la parola justice pensando a justice league al fatto che comunque nella justice league c'è anche wonder woman e invece poi si lamenta anche con i due che ci sono questi due gruppi con la parola justice a inizio a inizio nome come scena mi ha divertito anche perché lui poi si va a cercare altri nomi da un sito web che se non sbaglio esiste realmente che ti va creando titoli interessanti per qualcosa e spunta anche Avengers Society e lui dice oh questa mi piace mi ha fatto mi ha fatto molto ridere ed è questo il motivo per cui secondo me forse vedremo più in la Shazam all'interno del DCU ha accettato in teoria di far parte della justice society ok sono una banda di idioti almeno quelli che sono rimasti non voglio fare spoiler da Black Adam ma sono lì sono lì la justice society ma magari James Gunn riuscirà ad organizzare meglio il gruppo sempre se ci sarà nel DCU e sempre se questa cosa non l'abbiano lasciata dall'organizzazione precedente ed era previsto così ma io nei panni di Gunn e Safran a questo punto l'avrei tolta direttamente la scena post credit anche magari non la seconda perché la seconda è più racchiusa nel contesto Shazam con il dottor Sivana se non sbaglio si chiamava così quello interpretato da Mark Strong che dopo due anni ancora nella prigione ha disegnato tutti i simbolini di Shazam nei muri anche con uno Shazam impiccato che viene raggiunto dal verme anche della prima post credit del primo film che continua a infilargli in testa l'idea di ribaltare tutto facendo casino però è comunque un verme quindi ci sta tantissimo ad arrivare da lui scena comunque per lo più comica non penso che rivedremo molto molto volentieri il dottor Sivana e questo vermiciattolo che è un villain effettivo di Shazam nei fumetti però tutto sta in mano a Gunn e Safran in realtà anche a noi nei confronti di questo film quindi per l'ennesima volta io spero di rivedere Shazam all'interno del DCU e spero che tra l'altro gli altri film che rimangono dal Food is Extended Universe quindi Blue Beetle The Flash no forse prima arriva The Flash The Flash Blue Beetle e Aquaman The Lost Kingdom siano almeno carini quanto questo Shazam dicono che The Flash sia uno dei migliori cinecomic mai fatti quindi vediamo ragazzi vi ringrazio tantissimo per essere rimasti fino alla fine di questa recensione vi ricordo che in descrizione trovate i link importanti tra i miei social Instagram TikTok Twitter e Letterboxd e i link di Pampling per avere calze t-shirt poster e tanto altro dal mondo nerd e dalla cultura pop c'è il codice ilpensiero4 per avere un paio di calze gratis a scelta e poi c'è anche il link del Fantasia Store dove potete trovare Funko giochi in scatola manga fumetti carte collezionabili e tanto altro e con il codice Andri5 avrete il 5% di sconto su tutti i prodotti non già scontati del sito e niente io sono Andri questo è stato un altro mio pensiero per voi noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale Andri passa e chiude ciao